Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel ad un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi tratteremo un ortaggio, il pomodoro che dopo le patate, insomma è appunto un piatto molto presente sulla tavola di noi italiani. Sì esatto questo ortaggio che è originario del Sud America è diventato poi in effetti uno dei simboli forse della dieta mediterranea. Ne esistono di tantissime varietà alcuni sono anche degli IGP, ricordiamo il San Marzano, il Pachino, i Datterini. Per 100 grammi contengono pochissime calorie, solo circa 20, contiene tantissimi sali minerali soprattutto magnesio, potassio, calcio, fosforo ma anche vitamine del gruppo B, vitamina A e vitamina C. Ciò che caratterizza da un punto di vista nutrizionale il pomodoro è la presenza di tantissime molecole come polifenoli, carotenoidi, tra cui ricordiamo il licopene che è molto studiato per tutta una serie di possibili proprietà ed efficacia. Tra queste ricordiamo le sue proprietà antinfiammatorie, di riduzione dei livelli di colesterolo ma anche molto studiato come prevenzione di alcune tipologie anche di tumori, di patologie cardiovascolari. Ovviamente per poter sfruttare al meglio tutte quelle che sono le proprietà del licopene bisogna consumare il pomodoro cotto perché ciò aumenta l'assorbimento del licopene e anche associarlo ad un grasso e ovviamente quello di delezione, ovviamente l'olio extravergine d'oliva. Tra le altre proprietà dei pomodori ricordiamo che sono un ortaggio molto rinfrescante, dissetante e questo per il periodo estivo che va ad iniziare può essere sfruttato come anche un succo di pomodoro. Contiene tantissime fibre soprattutto nella buccia e quindi aiuta a regolare il transito intestinale, contiene potassio che contrasta la ritenzione idrica e aiuta a regolare anche la pressione arteriosa e fosforo e calcio che appunto sono minerali importanti per la salute delle ossa. Non solo pomodoro rosso sulle tavole degli italiani ma anche pomodori di altri colori, ecco qual è la differenza? La differenza essenziale appunto nella concentrazione di queste molecole antiossidanti, una su tutte diciamo appunto il licopene che man mano che il colore diventa rossa aumenta di concentrazione. Però il consiglio generale è quello appunto di mangiarli sempre cotti per aumentare la quantità di antiossidanti che andiamo ad assorbire e di evitare quelli più acerbi perché sono meno ricchi di molecole antiossidanti e hanno una maggiore concentrazione di un alcaloide potenzialmente tossico. Per chi ne fa un consumo eccessivo ci possono essere delle controindicazioni? Sì allora sono diciamo controindicati per chi soffre di ulcera quindi tutto un po' di disturbi gastrici soprattutto se consumati crudi. Sono sconsigliati anche per chi soffre di calcolosi urica e ossalica, di diverticolosi per la presenza di molti semini all'interno dell'ortaggio e poi essendo uno degli ortaggi che contiene una maggiore concentrazione di nickel è sconsigliato ovviamente per chi è intollerante appunto al nickel ma anche può dare anche delle reazioni allergiche e poi è sconsigliato comunque ai bambini al di sotto dei nove mesi. Bene, grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna come sempre la prossima settimana.